Musica Rieccoci insieme cari telespettatori, inizio anno, quindi tempo di valutazione di bilanci e di prospettive. Parliamo di energia, lo facciamo come sempre con il nostro super esperto, massimo esperto al riguardo, amministratore delegato di Antenora e Energia, Filippo Agostini. Grazie di essere qui con noi. Ben ritrovato, buon anno. Ben ritrovato e buon anno, naturalmente che sia un buon anno veramente per quanto riguarda le azioni che vengono intraprese da Antenora. Abbiamo visto anche con le ultime puntate dell'anno scorso, soprattutto nel terzo settore, quindi una cosa molto molto importante di cui tener conto. E' ben arrivato anche a Damiano Di Sion, responsabile fatturazione della Multi Utility. Buongiorno. E qui entriamo nello specifico anche, bello, temini molto caldi e pruriginosi quando si parla di fatturazione. Allora, io vorrei cominciare con lei. Una valutazione per quanto riguarda proprio Antenora e Energia dell'anno passato. Come lo può definire? Come è stato? Ah, devo parlare della nostra azienda? Che bello. E' una volta tanto lo facciamo, dai. Va bene, dai, facciamo un piccolo spot allora. No, ma è interessante perché stiamo parlando di una azienda di non poco conto, quindi che ha comunque un suo fatturato, una sua presenza sui territori, non solo sul territorio, eccetera. Quindi è una realtà. Fa anche azioni di volontariato, si occupa del terzo settore, sostiene attività sportive, azioni quindi significative per la società. Capire come va è importante, insomma, per il contesto socio-economico in cui ci muoviamo. Beh, allora possiamo dire che la nostra società nel 2018 è andata molto bene. Bene, nel senso che comunque abbiamo avuto una crescita, abbiamo praticamente raddoppiato il fatturato. Addirittura raddoppiato. Raddoppiato il fatturato, adesso usciremo col bilancio nei prossimi mesi ovviamente perché è la chiusura del 31-12-2018 e penso che quello che è stato seminato nel mercato abbia portato dei buoni risultati. Devo dire che i clienti che sono clienti sono sufficientemente soddisfatti del nostro servizio perché non è tanto solo il prezzo quello che conta, ma anche su tutti i servizi aggiuntivi che facciamo. Quello di cui andiamo fieri è che comunque, come aveva accennato, noi abbiamo restituito al territorio molto del nostro fatturato, all'incirca il 5%, e quest'anno siamo riusciti, ahi noi o per fortuna, a spendere quasi un milione, all'incirca un milione di euro, leggermente scarso, in beneficenza, sponsorizzazioni, sostegno e iniziative culturali come il teatro, la musica e la danza. Beh, è una cosa incomiabile questa. Caspi, c'è un ritorno sul territorio molto importante. Ecco, inoltre poi la filosofia di Antenore, la nascita di Antenore, aveva una filosofia di creare un'azienda appunto per restituire il territorio e creare lavoro. Nel 2018 abbiamo assunto 5 persone nel nostro organico, nuove, con contratto a tempo indeterminato o apprendistato, perché insomma, che dura circa 3 anni, e c'è in previsione per il 2019 di aggiungere altre 4 unità, sempre se il mercato ci sostiene, come dire. Cosa è una buona cosa? Sì, sì, è un'azienda che ha una filosofia di costruzione di un futuro e di lavoro. è meno attenta magari all'utile, per quanto quello è necessario per sostenere l'azienda, fare gli investimenti, ma è molto più attenta a costruire lavoro e ritorno economico. Sono giovani soprattutto quelli che prendete? Sì, assolutamente, noi, beh, non proprio e propriamente solo giovani, perché comunque è chiaro che quando andiamo a assumere nel reparto amministrativo contabile, molto spesso ci si rivolge alle scuole o all'università, insomma, e quindi sono giovani, però abbiamo assunto anche persone sui 45-50 anni, insomma. Lato commerciale devo dire che è quella più ampia nostra, perché abbiamo circa 9 unità che magari sono collaboratori esterni, a partita IVA o collaborazioni continue, ci sono età di tutti i tipi, quindi l'energia e il gas è un'occasione per lavorare, purché venga fatto bene, insomma. Ma quindi ancora adesso ci sono aperture per nuove assunzioni, quando parliamo sempre di opportunità di lavoro, molti rizzano le orecchie. Sì, certo, noi comunque abbiamo la mail, eventualmente si possono segnare che è info-antenore.it, dove le persone possono mandare la candidatura, sia per la parte amministrativa, impiegatizia, la nostra, la società di servizi, quindi cerchiamo gente di impiegati, notoriamente, oppure impiegati commerciali, rappresentanze, diciamo, e quindi sono benvenute anche quelle. Noi siamo partiti col mercato Veneto, Triveneto, attualmente siamo oramai in tutto il territorio nazionale, quindi non abbiamo nemmeno limitazioni di territorio. È un'occasione per lavorare, io dico sempre, si può lavorare, si può lavorare bene, purché per un'azienda seria, noi riteniamo di essere un'azienda seria nel settore. Visto che siete presenti in posto tutto il territorio nazionale, qual è la differenza tra ambiti territoriali, quindi dal Veneto rispetto ad altre regioni, che cosa notate? Perché avete in mano una situazione anche sociologica interessante, oltre che sociale ed economica. Beh, è chiaro che ogni regione, ogni provincia ha le proprie caratteristiche, parlando meramente del lato commerciale, perché ovviamente noi abbiamo le nostre sedi nel Veneto, però lavoriamo in tutto il territorio nazionale. Quando noi cerchiamo una nuova zona da sviluppare, cerchiamo una persona del posto, perché comunque conosce anche la mentalità del posto. Niente di peggio che centralizzare magari la ricerca di mercato, perché molto spesso il modo che abbiamo noi nel Veneto non va bene nel Lazio, come dire. Quindi avere un referente commerciale, una persona di riferimento nel Lazio serve anche per creare mercato in maniera migliore. Io per esempio non sono contrario a quei call center che cercano appuntamenti centralizzati, che chiamano in maniera massiva tutta Italia, perché il linguaggio che si usa, ribadisco, nel Veneto non è lo stesso che si usa nel Lazio, per quanto l'argomento sia il medesimo. Assolutamente. Quindi è importante trovare risorse nel luogo in cui si va a proporre i propri servizi. Avete uffici sul territorio? Abbiamo uffici nel territorio, certo. Principalmente diretti li abbiamo nel Veneto, abbiamo cinque sedi. E indiretti, cioè collaborazioni commerciali o point o sportelli indiretti, ce li abbiamo in Toscana, attualmente nel Lazio, in Puglia e nel Molise. Interessante. Allora, vediamo un attimo. Come si fa a verificare se il proprio contatore del gas è a impulsi e non meccanico? E si può chiedere l'installazione del contatore digitale ad impulsi? Non so se si dica così. Anche pagando di Toscania, so che ce ne sono di tre tipi, analogico, semidigitale, a rotella e digitale ad impulsi, che sono i più affidabili ma solo il 5% li possiede perché costano di più. Sapete rispondere a questa domanda? Posso provarci? Sembra una domanda complicata, ma in realtà non lo è. Nel senso che l'ammodernamento della rete dei contatori installati sia di luce che di gas, in particolare adesso l'ascoltatore parlava di gas, è di competenza dei distributori. I distributori locali, che a Padova è Accegas APS per intendersi, sono loro appunto che decidono quali contatori devono essere cambiati e quali no. Per verificare qual è, se il proprio contatore è di tipo di nuova generazione o meno, bisogna per forza andare a vedere dove è installato il contatore e verificarlo di persona. Nel caso sentire sempre la società di vendita, in questo caso se fosse cliente Antenole direi di chiamare il servizio clienti di Antenole Energia o comunque della propria società di vendita e chiedere l'uscita di un tecnico per l'appuntamento del distributore. Del distributore. Per quanto riguarda le tipologie cambia qualcosa? Cioè l'avere un tipo di contatore o un altro? Il contatore meccanico nel gas l'unica cosa è che non rileva le letture tutti i mesi e quindi incorrono dei problemi di stime, di consumi che possono creare un problema anche economico al cliente nel caso in cui le stime che le società di vendita devono fare per fatturare sono maggiori rispetto agli effettivi consumi del cliente. Quelli di nuova generazione ad impulsi elettronici ogni fine mese mandano direttamente la lettura del contatore al portale del distributore e poi le società di vendita le scaricano per fatturare gli reali consumi. Quindi sarebbe importante averlo. Voi vi rendete conto quale utente ha un certo tipo di contatore o un altro? Sì, lo vediamo. Sollecitate l'aggiornamento? Sì, lo facciamo. In realtà lo facciamo se il cliente lo richiede. Ma già il distributore pensa a fare questa cosa qui perché l'autorità glielo impone. L'autorità da delibere, che ultimamente lo sta facendo molto spesso, ed è molto stringente in questa cosa perché è importante ammodernare la rete dei contatori, dei clienti finali, insomma. Sì, per esempio nella zona di Padova diciamo che mi sembra che Abano Terme sia in fase massiva di cambio di tutti i contatori del gas. L'unico problema che rallenta un po' è che comunque ci vuole la presenza del titolare del contatore. Molto spesso magari uno ha il contatore interno al cancello, cosa del genere, però stanno modernizzando tutto. Perché il distributore è stato costretto dall'autorità per l'energia a modernizzare anche quelli. Quindi sono in fase di cambio tutti i contatori. Anche la parte elettrica ho saputo che li stanno cambiando, anche quelli che magari hanno 5-6 anni o 7. Quindi recenti, abbastanza recenti? Anche abbastanza recenti perché comunque c'è un problema anche di sicurezza. Comunque stiamo parlando di gas, energia elettrica, che non è una cosa di poco conto. Non c'è la fregatura dietro? No, non c'è nessuna fregatura. Mi sembra far sempre la domanda di diritto. Diciamo che è a titolo gratuito, anche se poi sappiamo che le tariffe della distribuzione che sono presenti in bolletta vengono aggiornate trimestralmente, quindi secondo me un piccolo rimborso c'è sempre, diluito nel tempo, ma il contatore lo paghiamo comunque. E quindi è giusto farselo sostituire. Perfetto. Non c'è stato ancora il famoso countdown per arrivare appunto al cambio di gestione, mercato libero, mercato controllato, eccetera. Però nonostante questo molte persone si sono affrettate. In buona sostanza voi cosa avete notato con la vostra azienda? Beh, allora c'è una data che doveva essere il primo luglio 2019, quindi quest'anno, visto che è arrivato il 2019, in realtà è stato spostato al 2020. Quindi molti hanno tirato un po' il respiro di sollievo, oppure avete notato che c'è stato comunque un movimento? Ma è un sospiro di sollievo per chi non ha voglia di interessarsi dei propri costi di casa. In realtà sarebbe giusto che le persone si sensibilizzassero un pochettino di più su questo argomento, perché poi vedremo eventualmente con le slide che le tariffe del mercato tutela non sono poi così convenienti. Diciamo che se ne è parlato parecchio nel corso 2017-2018, perché sembrava che ci fosse il limite di quest'anno. E quindi molte persone si sono sensibilizzate e noi anche nei nostri sportelli, nelle nostre agenzie, abbiamo visto che le persone cominciano spontaneamente a presentarsi per farsi fare una consulenza. Io ribadisco, bisogna andarsi a farsi fare una consulenza, non è obbligatorio fare il contratto, ma almeno cominciare ad avere idea di cosa stiamo pagando in questo momento e di cosa potremo pagare nel futuro. E devo dire che c'è più movimento. Ci sono molte persone che ricevono telefonate a casa da altri operatori, eccetera, voi non siete così invadenti e perniciosi, che dicono, che paventano effettivamente risparmi rilevantissimi con sconti di un certo tipo. Sono cose reali, fattibili, oppure sostanzialmente sono degli allettamenti? Perché questa è la domanda frequente che è un po' la summa delle varie telefonate che noi riceviamo. Sì, diciamo che c'è un po' di tutto. Ci sono sicuramente delle offerte convenienti e serie, ma ci sono anche tante offerte che non si capisce poi da dove partano, perché se mi chiamano e nemmeno mi chiedono con chi sono abbonato e mi offrono uno sconto 20%, da dove partono? Perché non si capisce da che tali fa partano. Ma hanno tutti quanti dati? Molti dicono che hanno tutti quanti dati, compresi... Non è possibile avere i dati di vendita, perché chi è cliente antenore ha un prezzo che non è pubblicato da nessuna parte e quindi è difficile che uno possa dire che è più conveniente. Bisogna partire dall'idea di vedere la bolletta attuale del consumatore, fare una consulenza, spiegare tutte le voci della bolletta, perché lo ripeto, anche se l'ho detto anche le altre volte, il 33% è materia prima, il 33% è distribuzione, il 33% sono imposte. Dove si va a ragionare è il 33% della materia prima. Tutte le altre voci sono indiscutibili ed è comunque un documento, chi ce l'ha sotto mano è abituato a leggerla, è sufficientemente complicato e quindi è giusto andarsela a far spiegare. Allora uno poi capisce realmente se chi telefona e propone un'offerta è realmente conveniente o no. Io dico sempre di non accettare offerte telefoniche, perché comunque non hanno nessun tipo di riferimento. Se uno dovesse anche dire, guardi, noi facciamo il 20% di sconto sul prezzo tutela, forse non si rende conto che il prezzo tutela in questo periodo è molto alto, avere lo sconto del 20% non è sufficiente per avere un prezzo conveniente, si può avere di meglio. Il prezzo tutela è molto alto, è da tenere in conto. Tanto sono previsti anche dei rincari per quest'anno, vi risulta? Sì, noi c'eravamo visti a dicembre, avevamo visto l'ultimo trimestre, adesso abbiamo il nuovo trimestre pubblicato e quindi l'abbiamo portato. Magari Damiano, se ha voglia, può spiegarlo leggermente. E vediamo, siccome manca un minuto, eccolo qua, perfetto, abbiamo una slide che può essere interessante. Allora, vediamo di capirla. Sì, qua si vede che i prezzi del mercato di tutela intanto sono indicizzati trimestralmente, quelli sono tutti i trimestri che man mano vengono pubblicati dall'autorità. Praticamente il cliente che è in abbonamento con il servizio di tutela non ha la possibilità di contrattare il prezzo, come ce l'avrebbe nel mercato libero con la società di vendita, ma si prende il prezzo dei kilowattora dell'energia elettrica che l'autorità stabilisce, quindi il tutela. Ecco che il trimestre per cui si stanno facendo i consumi adesso dal 1 gennaio 2019 al 31 marzo 2019 è salito pesantemente rispetto al primo o secondo trimestre del 2018. Ma molto pesantemente. Molto pesantemente. Questo per una serie di motivi che hanno visto nell'ultimo anno, insomma, il trend delle quotazioni energetiche, ma non solo della componente luce e gas, anche del petrolio, della benzina, diesel, è salito in generale. E l'autorità sta recependo, insomma, siccome ha delle indicizzazioni particolari, e adesso si è aggiornato gli indici, per cui sta alzando i prezzi, essenzialmente per andare a riassorbire l'acquisto, il rialzo che ha avuto nei trimestri precedenti. Più o meno la questione è questa. Adesso, essenzialmente, il mercato di tutela è svantaggioso rispetto alle quotazioni normali del mercato libero, dei listini che il mercato libero può proporre, insomma. Ecco, andiamo alla slide, la prima che è in realtà, perché questa qua è la seconda coli grafico, cioè la prima, parla di italiani risparmiatori, perché questa è anche molto interessante, l'analisi che avete fatto secondo l'ultimo osservatorio di Fin Domestic. Lasciamola qui, così anche chi è a casa, se riesce, può anche leggerla. Che cosa ne è emerso? Beh, noi lo vediamo nella gestione del lato credito. Il collega Federico, che gestisce l'ufficio credito, ha visto un miglioramento della capacità di pagamento dei nostri clienti. Questo significa che comunque c'è un leggero miglioramento rispetto comunque a 3-4 anni fa, in cui la situazione era sufficientemente grave per le famiglie. E c'è un miglioramento, insomma, si vede che le persone sono più puntuali nei pagamenti, stanno migliorando i tempi di rientro, perché la scadenza della bolletta viene seguita pedissicuamente solo dal 60% dei consumatori. L'altro 40% si prende comunque quasi 3 settimane, un mese per pagare. E quindi si prende il tempo, rateizzazioni, cose del genere. La cosa sta nettamente migliorando e quindi c'è un po' più di ottimismo, diciamo. Un leggero ottimismo, insomma, dopo che non so dare la percentuali, lì nel piccolo articolo che abbiamo riportato si parla del 10%, 5%, che comunque sono dei buoni sentori. Perché si parla di desiderio di risparmio? Quale risparmio compare? Diciamo che le persone dopo aver passato un periodo in cui, come dicevano, non arrivavano a fine mese, adesso cominciano a cercare di risparmiare su tutto, sul telefono, sugli abbonamenti della televisione. E finalmente si sono decisi di dare un'occhiata anche alle bollette di gas e luce. Notando che... Eh sì, notando che comunque ci possono essere risparmi notevoli. Ecco, un altro messaggio, poi dovevo andare anche in pubblicità. Buongiorno, volevo chiedere ai suoi ospiti se dovessi cambiare fornitore di energia elettrica, rivolgemi a voi. Quanto rispetto a quello attuale fisso verrei a sparagnare all'anno approssimativamente? Effettivamente, grazie e complimenti a Elena Bellissima e ai suoi ospiti. Cosa, cosa... Ecco, qui c'è il problema di quello che si diceva prima, bisogna fare una comparazione della bolletta. Sì, bisognerebbe capire per sparagnare, come dice in maniera molto carina il telespettatore, capire attualmente con chi ha l'abbonamento, con chi ha il... Molto probabilmente sarà l'operatore... Beh, se è mercato tutela può risparagnare o risparmiare per lo meno 100 euro all'anno e minor IVA e minor tasse sull'energia elettrica e quasi 200 euro nel gas metano. È tanto! Se fosse col mercato di tutela. Però questi numeri qua sono cambiati negli ultimi periodi, perché ancora anni è dietro quando ne parlavamo. Erano numeri più risicati, vero? Ma è perché abbiamo visto l'andamento del prezzo, l'abbiamo visto prima con Damiano. Cioè, se quando passiamo da 6 centesimi a più di 10, è più 40%? Sì. Poi che incida nella bolletta il 6,5%, come dicono i giornali, che è trimestrale, quindi un 6,5% di aumento trimestrale, però dai e dai e dai, 6,5% a trimestre comincia ad essere una cifra importante. Un'altra cosa che ci ha scritto una signora, mi stavo dimenticando, tra l'altro è arrivata questa lettera scritta a mano, gentilissima, la salutiamo e ringraziamo, Ada, che chiede che documenti deve portare da voi per poter fare il cambio di operatore. Ah, basta la copia di una bolletta di gas e una di luce e i propri documenti personali. Quindi vuol dire la carta d'identità? La carta d'identità, il codice fiscale e la copia della bolletta. Facilissimo allora, signora, non si preoccupi, facilissimo, so che ci segue sempre. Ci fa molto piacere, andiamo in pubblicità rapidissime e poi ritorniamo ancora insieme. Grazie. 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 Grazie.